origano in natura bello e profumato vediamo quanto riusciamo a raccoglierne oggi ce ne dovrebbe essere è una giungla ma in mezzo a questa giungla c'è anche l'origa eccolo qui bello fiorito ora lo raccogliamo questa è bella mazzo dopo mazzo si fa la scorta per un anno intero la zona è impervia è un terreno abbandonato ma come si fa ad andare via se si trovano queste foreste di origano un campo fiorito di origano dovunque si guarda e io sono un soggetto fortemente allergico a tutto questo ambiente però per l'origano si fa anche questo ci si imbottisce di farmaci prima di mettere piede in questo tipo di terreni questo è il bottino di una passeggiata di mezz'ora nella selva oscura una buona raccolta profumatissimo